Siamo con Cristian Battisti, numero 9 del Cisterna. Allora Cristian, è arrivata la terza vittoria consecutiva, una gara fondamentalmente da voi dominata, una bella vittoria, 3-1 il risultato finale. Quali sono le tue sensazioni al termine della gara? È stata una partita dura, perché comunque loro sono una squadra ben organizzata, però noi adesso abbiamo il nostro obiettivo, vogliamo concludere al meglio la stagione e quindi siamo riusciti a portarla a termine anche oggi. Non era semplice con questo caldo. Quanto hanno influito le temperature? Tantissimo, tantissimo. Adesso inizia a essere tosta fino alla fine a giocare con questo caldo. Senti, sei tornato al gol che mancava da qualche partita, tra l'altro doppietta. Sei contento, sei soddisfatto? Come reputi la tua prestazione? Allora, intanto... A cosa? Battesimo degli due gol. Intanto l'importante è che siano serviti a far arrivare tre punti alla squadra, quella è la cosa più importante. Poi è chiaro che io faccio l'attaccante, quindi il gol è importantissimo. Quando non arriva si sta male, si sta male perché non si può aiutare la squadra, perché comunque non si è sereno. Quindi quando si fa gol è tutto più liscio. Dal punto di vista, diciamo, tecnico e tattico, sul primo gol, sulla punizione, il tuo movimento è stato naturale sul primo palo, come se sapessi che il pallone cadeva in quella zona. Era preparato o è venuto appunto tutto in maniera... Sono tutte cose preparate, sono schemi che proviamo a mezzo durante la settimana. Io sapevo che Marco Prezzotti o la metteva lì, oppure sul secondo per non dar dietro, quindi ho attaccato la mia zona di competenza, la palla è arrivata lì e è andato tutto bene, per fortuna. Ti ringrazio, in bocca al lupo, per il finale. Grazie a tutti.